Di ritorno dal Consiglio Episcopale Permanente, Monsignor Nazareno Marconi, quali riflessioni sono emerse e quali messaggi? Si è trattato come sempre all'inizio dell'anno di una valutazione del cammino che c'è da fare in quest'anno. Abbiamo dato particolare attenzione al tema del cammino sinodale, la riflessione di questi passaggi che portano la Chiesa a ragionare cosa ci aiuta ad avvicinarsi alle persone e come possiamo metterci in condizioni di comunicare meglio, di farci capire meglio. La Chiesa non deve cambiare i suoi contenuti perché non sono nostri, i contenuti della fede ce l'ha dato il Signore, ma certo deve trovare modi nuovi e più efficaci di comunicare. E su questo la riflessione è stata protratta e interessante. Poi ci siamo chiaramente confrontati con le problematiche di una Chiesa che a livello caritativo cerca di vivere l'accoglienza e il sostegno alle istituzioni, non per altri motivi che per essere vicini a chi ha bisogno. E questa situazione è particolarmente significativa nei confronti dei migranti, anche qui a Macerata lo stiamo vivendo come Chiesa attraverso l'impegno della Caritas, attraverso la collaborazione con enti e strutture locali. Ecco, una riflessione ampia, serena, positiva. E poi avremo ad ottobre l'Assemblea di tutti i Vescovi e lavoreremo ancora meglio. Adesso sta per partire l'incontro del Sinodo Universale ed è un momento sicuramente iniziale ma significativo. Continua ancora la Chiesa a chiedersi come metterci a servizio dell'uomo di oggi.